Piano antincendio boschivo stanziati 19 milioni di euro per questa estate. L'Aggiunta regionale della Campania ha approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. E' stanziato 19 milioni di euro per l'attuazione degli interventi previsti per questa estate, nel periodo in cui vigi lo stato di grave pericolosità, cioè per quest'anno dal 15 giugno al 20 settembre. Un modello organizzativo e operativo di oltre 200 pagine, realizzato dalla Protezione Civile della Regione Campania con il contributo degli attori istituzionali coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'attività e che precisa ruoli e modalità di azione per il contrasto agli incendi, la prevenzione e la mitigazione del rischio. Un coordinamento costante con gli enti delegati è la SMA Campania per gli interventi di mitigazione del rischio e le attività della campagna estiva. L'impegno delle organizzazioni di volontariato convenzionate per l'attività di antincendio boschivo alle quali vengono assegnati, incomodato d'uso gratuito, mezzi della Protezione Civile Regionale e la conferma del servizio di spegnimento con sette elicotteri, di cui un bimotore. Inoltre, le convenzioni stipulate con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Regionale Campania e i Carabinieri Forestali del Comando Campania. Il modello è strutturato per permettere un'azione capillare grazie all'individuazione della mappa cartografica del rischio. Un capitolo è dedicato alle regole da seguire per l'antincendio nel periodo concomitante all'emergenza sanitaria da Covid-19. Un parto per l'antincendio nel periodo conoscenza di internazionale del uomo. Un parto per l'antincendio nel periodo conoscenza di un'internozionale del rischio.